A me sembra che oggi sia veramente tutto fantastico, cioè veramente andiamo ai congressi di medicina sentiamo un sacco, scusate, anche spesso di cose veramente inutili, mi sembra che oggi ci sia come diceva poco fa Enzo una squadra veramente particolare, io volevo fare due o tre riflessioni prima di cominciare, perché quello che ha detto all'inizio Spagiali, quello che ha detto poi via via che ci stiamo dicendo, può essere, cioè necessita a mio parere di una riflessione, tutta la medicina è basata su alcuni modelli, questi modelli sono emersi fino a 800, rimangono sempre gli stessi, sono tutti basati su una logica lineare, determinista, riduzionista, puramente biochimica, la relazione iniziale è stata proprio illuminante sulle necessità, non saremmo qui altrimenti, di dare finalmente, adesso questo non significa che ce l'abbiamo già, una rappresentazione non solo biochimica ma anche biofisica di quello che avviene a livello fisiologico e a livello patologico, perché se non riusciamo a far questo noi non riusciamo a schiodarci da alcune visioni puramente lineari e deterministiche della biologia. Ora tutto questo dice, ma che significa questo? Ha una attinenza ovviamente sulle tematiche sì, ma anche sul nostro lavoro enorme, cioè immaginiamo quello che è successo quando, diciamo intorno agli anni 1910-1920 alcuni personaggi fondamentali come Morgan e altri hanno immaginato che colpendo letteralmente degli organismi, poco fa si parlava di campi elettromagnetici, ma con radiazioni più o meno potenti, si avessero delle mutazioni del DNA che portavano a patologie. Cosa hanno fatto? Ma stiamo a cent'anni fa, hanno immaginato che questo significava che ci sono delle molecole che portano l'informazione e se le colpiamo in modo random si hanno dei danni. Era logico, ma siamo nel 1910. Ancora una volta cosa hanno fatto i fisici? Non i biologi. Hanno immaginato su questa base dei modellini di esposizione a campi elettromagnetici e alle radiazioni ionizzanti basati ancora una volta sull'idea puramente deterministica. Arriva l'energia, più è forte l'energia più c'è rischio. Non è vero niente, non funziona così. Cioè ci dobbiamo rendere conto che non ha niente a che vedere, anche se continuiamo a usare questi schemi, non ha niente a che vedere con quello che avviene realmente nella cellula, nel genoma. Il genoma non è per niente una sequenza lineare, ma ci pensate un attimo, esiste una molecola lineare? Cioè pensiamoci un minuto, c'è qualcosa che non sia tridimensionale nella realtà? Il DNA può mai essere una sequenza lineare di informazione? È ridicola sta roba, è ridicola nel senso che cent'anni fa aveva un senso. Progetto genoma, trilioni di dollari, investiti nell'idea che se noi studiamo la sequenza possiamo capire tutte le variazioni del nostro fenotipo, fisiologiche e patologiche, in particolare le patologie complesse. Ha funzionato, non poteva funzionare, non poteva funzionare perché l'obesità, il diabete secondo giovanile stanno dilagando nel mondo, il cancro, tutte le forme infiammatorie di cui parlava Enzo. Non perché il DNA sbaglia, il DNA non sbaglia. Il DNA ha 4 miliardi di anni, noi siamo sulla Terra in quanto Homo sapiens da 100.000, il DNA ha 4 miliardi di anni, in 4 miliardi di anni ha acquisito un'enorme quantità di meccanismi di riparazione, un'enorme quantità di meccanismi di adattamento e di capacità realmente reattivo-adattativa e quindi non sbaglia. Se stanno dilagando le patologie croniche non è perché ci sono degli errori, delle mutazioni, dei polimorfismi fortunati, è tutto sbagliato perché troppo semplicistico, troppo semplificante, nel 1910 aveva senso. Progetto Genoma, trilioni di dollari, adesso partiamo da qui, non poteva darci le risposte perché Progetto Genoma parte proprio dall'idea di una sequenza lineare. Come dicevamo, adesso inseriamo un minimo di conoscenze sulla biologia sistemica e poi speriamo prima o poi di arrivare a una biofisica sistemica che integri la biologia sistemica. Come ce lo possiamo immaginare? In ogni cellula, immaginatelo proprio visivamente, noi abbiamo una cellula che ovviamente è già un organismo complesso. Dentro la cellula, membrana, citoplasma, milioni di molecole che si interpongono tra la membrana e il citoplasma e traghettano l'informazione che viene dall'esterno in varia forma, in particolare vibrazioni elettromagnetiche e vanno a stimolare dei meccanismi complessi che vanno sul software del DNA, che si chiama epigenoma, ora vedremo che cos'è, e gli dicono quello che deve fare. Quindi, primo, l'informazione viene dall'esterno, non va dal DNA, RNA e proteine, adesso li vedremo questi passaggi, ma lo capite cosa significa? Ci continuano a insegnare in tutte le università del mondo che l'informazione, questo si chiama dogma centrale della biologia molecolare, dogma di Greek, l'informazione va dal DNA, RNA e proteine e non può tornare indietro. È una stupidaggine colossale. Capite? Allora, se noi abbiamo fondato una scienza intera su questo, l'informazione va dall'esterno, in particolare in forma di campi elettromagnetici, di vibrazioni varie, va dall'esterno anche in quanto biochimica, perché tutto quello che noi mangiamo, tutto quello che noi beviamo, arriva sul sistema in varie forme, noi lo metabolizziamo, lo trasformiamo, pacchetti vari di molecole che vanno sul sistema e gli dicono quello che deve fare, l'informazione viene dall'esterno. Qual è il problema? Il problema è che per milioni di anni la composizione dell'atmosfera, quindi dell'aria che beviamo, dell'aria che respiriamo, dell'acqua che beviamo, degli alimenti, è rimasta più o meno stabile. Che cosa è successo in cent'anni? Che abbiamo cambiato la composizione dell'aria che respiriamo, dell'acqua che beviamo, delle catene alimentari, di tutto. Abbiamo inserito da 100 a 120 mila molecole di sintesi e a milioni di molecole che sono il prodotto di reazioni termochimiche. Cioè questo, quando si parla di ambiente, quando faceva Giorgio l'introduzione, ma l'inquinamento non è esiste una quantità di un inquinante, chissà che effetto ha, se esiste un effetto sovia che possa essere quantificata per la tossicità. Non esisteva in natura tutta una serie di sostanze cui siamo esposti dalla mattina alla sera, soprattutto dall'inizio della vita, dallo zigote in poi. Benzene, benzantracene, benzopirene, interferenti endo... Capite? Allora questo è il problema. I campi elettromagnetici in natura esistono sì, ma di certe frequenze ci siamo evoluti dentro, servono a creare quelli che sono ancora ipotizzati come campi morfogenetici ed è lì il punto. Cioè, ve li immaginate una molecola di DNA come ce la fanno studiare? Una molecolina intesa come una sequenza lineare di basi? Non ha niente a che vedere con quello che è veramente il genoma. Il genoma è, per come ce lo possiamo ancora volte immaginare, una doppia spirale di molecole attorno a cui ruota un'enorme quantità, milioni di altre molecole che sono gruppi metilici, gruppi acetilici, RNA minori prodotti dalla stessa molecola, enzimi, istondi acetilasi, istondi metiltransferasi, tutto questo corpus attorno a un campo elettromagnetico prodotto dal fatto che il DNA ruota su se stessa. Ora, quando scorre tutta questa molecola, gira su se stessa, cambia continuamente come adesso vedremo, crea un campo elettromagnetico endogeno, noi abbiamo trilioni di campi elettromagnetici endogeni, arrivano nei campi elettromagnetici esterni, interferiscono su sta roba, chiaro? Quindi, ora c'è qualcosa di questo che viene studiato nelle nostre università? Assolutamente niente. C'è qualcosa di inerente al genoma che viene studiato dove però il genoma venga visto come un sistema complesso che risponde in maniera attiva, adattativa, cambiando la sua conformazione continuamente? No, perché il DNA è una sequenza linea, capite? Allora si tratta di rifare tutto il percorso. Ora proviamo a farlo insieme, quando si parla però di epigenetica dimenticatevi la definizione base che viene ancora letta da tutte le parti, che è l'epigenetica studia le modifiche del genoma che non cambiano la sequenza del DNA, ma semplicemente l'espressione genica. È così? Ma non è vero, non è questo, l'epigenoma è un sistema incredibilmente complesso di cui il DNA è una piccolissima parte. Il DNA è il database, il DNA è quasi uguale in tutti noi, quello che veramente ci rende diversi è un software enormemente complesso che si chiama epigenoma, capite? Che è il contrario di quello che continuiamo... Cosa interferisce sull'epigenoma? Tutte le frequenze varie che sono in realtà l'essenza della materia e quindi non solo campi elettromagnetici verificabili come tali, ma perfino le molecole che arrivano, e vi dico l'ultima battuta e poi cominciamo, un cagnolino sente a distanza un odore e noi no. Ma non perché lui sente la molecola, è perché lui è in grado di sentire la vibrazione associata a quella molecola. Quindi perfino questo è un campo elettromagnetico, perfino l'olfatto non è la molecola che arriva sul recettore e lo colpisce, è la vibrazione, per questo lui la sente a 100 metri o a un chilometro e noi no, perché il suo rinencefalo è rimasto nei milioni di anni infinitamente più potente del nostro perché noi abbiamo potenziato altre, capite? Allora vogliamo vedere così, capisco che uno dice, ma donna santa dobbiamo cambiare tutto, sì dobbiamo cambiare tutto, se no non capiamo quello che sta succedendo, se no rimaniamo veramente a una medicina ancestrale, che è una medicina puramente biochimica, adesso vedremo gli effetti. Allora scusate ma questa era un'introduzione perché dobbiamo legare tutto quello che stiamo dicendo, allora in pratica, questa è stata la prima diapositiva, qualcuno forse l'ha già vista, che avevo fatto vedere due anni fa al primo congresso mondiale sulle origini fetali delle malattie, adesso tra una settimana il 5 e il 6 a Londra, chi vuole venire è un invito, c'è il secondo congresso mondiale sulle origini fetali delle malattie e finalmente cominciano a emergere questi fatti di cui stiamo parlando da qualche tempo, c'è che l'epigenetica non è lo studio di come il DNA si esprime, è lo studio di come il DNA si programma nella prima fase della vita e se la programmazione in epoca embrio fetale viene disturbata per tutta la vita ne portiamo le conseguenze e addirittura ne portano le conseguenze i nostri figli e nipoti, quindi è totalmente diverso e questo non perché il DNA sbaglia, ma perché il software è plastico. Allora se questo è vero, questo comincia veramente, almeno per molti di noi è cominciato, quando un biologo molecolare che si chiamava Dan Wilkins aveva scritto su BioSales questo articoletto, due paginette in cui si dice ma perché i fisici teorici hanno fatto un salto enorme, prima ragionavano in termini deterministici, riduzionistici e invece adesso finalmente grazie a quest'uomo e grazie a questi personaggi vari, a partire da Boltzmann, Maxwell e poi tutta la meccanica quantistica e poi ovviamente Albert Einstein, abbiamo capito in fisica che l'osservatore interferisce sulla realtà, che non esiste una realtà oggettiva, che non ha senso parlare di determinismo, che le scienze dure tra virgolette non esistono perché ogni scienza, perfino la fisica diventa una scienza tra virgolette molle nella misura in cui capiamo che ha la capacità di reagire in maniera tra virgolette intelligente, allora tutto questo in biologia come mai non riesciamo a capirlo? Ora tutto questo è stato scritto nel 97, sempre allora risponde su Nature Biotechnology un altro personaggio di livello che è Richard Stroman, che è un biologo molecolare, su Nature Biotechnology è interessante questo, questo è il giornale di punta della biologia molecolare tradizionale, eppure permette delle grandi capacità che hanno gli anglosassoni, in Italia non ti fanno pubblicare nulla se tu dici il contrario di quello che vogliono se lo specifica, è così, loro te lo pubblicano, questo scrive praticamente, sì è vero stiamo sbagliando tutto perché abbiamo ancora un modellino lineare, ancora continuiamo a pensare che il DNA decide, fa RNA messaggero, fa proteine e l'informazione qui dice proprio, questo è il dogma di Cricko, goes from DNA to RNA to proteins, but never backwards, l'informazione va linearmente dal DNA, dal RNA alle proteine e non torna indietro, una balla stratosferica, dice Stroman, non lo dico io, dice già nel 97, dice questi due dopo 50 anni continuiamo a fotografarli così, continuiamo a pensare che avessero ragione loro, lo insegniamo in tutta l'università del mondo, stiamo veramente bloccando la evoluzione di milioni di cervelli e dopo 20 anni siamo ancora a questo, tutto progetto genoma è cambiato, è diventato in code, come forse sapete, ma in code non sta studiando il genoma in maniera plastica, ma lo sta studiando in maniera diversa, come adesso vedremo si sono resi conto che il genoma solo per l'1,5% fa proteine, per il 98,5% fa altro, quindi hanno dovuto adattare il progetto genoma, ma continuano a studiarlo in modo lineare, come se fosse lì il segreto, quindi siamo pazzi, siamo pazzi nella misura in cui ovviamente tutto questo è deciso, dove c'è il potere, cioè non da chi fa scienza, ma da chi fa business sulla scienza, allora questa è la realtà in cui stiamo vivendo, per questo io poco fa con grande rispetto e anche convenendo sulla gran parte delle cose che ha detto il collega ingegnere, è vero, queste sono le normative, le normative purtroppo non vengono fatte sulla base dei dati scientifici reali, ma sulla base, lo dico e lo sottolino, dei basi scientifici di 80 anni fa, con modelli che non hanno più senso, quindi è assurdo, o cambiamo, ovvero semplicemente dobbiamo arrenderci a fatto che hanno deciso che la nostra salute non vale nulla, tanto meno quella dei nostri figli, allora se tutto questo è vero, che cos'è il genoma? Il genoma non è per niente una sequenza lineare, già nel 2001 Stroman lo raffigurava così, il genoma è un ecosistema di migliaia di sequenze geniche, almeno 20.000 che si rispondono tra di loro, non si accende o spegne un solo gene senza che se ne accendano o spegnano misteriosamente altri mille. Quello che poco fa diceva i senti georghi spagiari è verissimo, cioè il mistero è come fanno tutti questi ogni millisecondi a produrre quello che serve alla cellula, al tessuto e all'organismo se non comunicando tra di loro secondo codici che non sono per niente lineari, è il sistema che reagisce, reagisce nel suo insieme, infatti GIMS need to be told to switch off and on, i geni hanno bisogno che gli si dica se devono operare o come, non si accendono e spengono e decidono, loro non decidono, loro sono lì in un sistema complesso, quello che decide casomai sono le Dynamic Epigenetic Networks, 1997, 2001 questo, insomma 20 anni, 20 anni fa quasi, noi quando abbiamo letto queste cose la prima volta ho detto ma di che parla? Ma realmente non capivamo neanche, cioè l'idea che ci fosse un sistema in ogni cellula, reattivo, adattativo, in grado di cambiare, che tutto quello che noi continuiamo a vivere, a respirare, a bere, a mangiare, ma perfino a dirci reagisce dentro questo sistema o lo induce a modificarsi, io sto parlando, vi arrivano informazioni, queste informazioni entrano nel sistema, dove vanno? Vanno nei neuroni? li cambiano, non è che li cambiano, però dicono qualcosa, questa energia di fatto che arriva in varia forma, più o meno simbolica, chiamiamola come vogliamo, determina dei cambiamenti, non della struttura del cervello, ma delle reti neuronali e lì è veramente un fatto emblematico, perché la cosa fantastica che avviene è che le nuove informazioni interagiscono con le vecchie e durante la notte, quindi questa notte avverrà questo mistero, perché una parte delle cose che vi dico verranno integrate e accettate dal sistema, le altre verranno eliminate e si forma la memoria a lungo termine, questo avviene, ma è talmente dinamico, talmente in grado di trasformarci, che vi rendete conto quanto poco conta la linetta del DNA e l'errore? Noi non siamo per niente quella macchinetta che sbaglia, noi siamo un sistema incredibilmente complesso, l'ambiente determina tutte le trasformazioni, il genoma è in grado di fare natural genetic engineering, questo è Jim Shapiro, il sistema è tra virgolette intelligente, complesso, si è formato in miliardi di anni, finalmente per capire qualcosa dobbiamo buttare via i dogmi di cui ancora siamo permeati e da cui ancora non riusciamo uscire, ce ne sono tre basilari, che sono quelli che insegniamo a tutti gli studenti, non solo a scuola ma nelle università e ovunque, sono il dogma di Weissman, secondo cui esiste la barriera di Weissman, secondo cui misteriosamente i gameti sarebbero preservati dall'ambiente, non è vero nulla, i gameti come tutte le cellule ricevono le informazioni e cambiano il proprio epigenoma continuamente e quello che avviene nel gamete si trasmette alla generazione successiva, per cui il tossicologo che va a studiare quello che avviene con l'esposizione di un soggetto X, che può essere un gattino, un cagnolino, un topolino, eccetera, non vede nulla di quello che realmente avviene nei gameti, perché gli effetti si vedono addirittura nella generazione successiva, capite? Allora se tutto questo è vero, la barriera di Weissman va buttata via ed è urgente che la si butti via, anziché insegnarla, ma anche il dogma di Grip deve essere buttato via, perché l'informazione non va come abbiamo visto dal DNA alle RNA alle proteine, ma va dall'ambiente sul genoma e lo induce a modificarsi in modo sistemico e adesso lo vedremo. lo dico en passant perché qui subito avviene l'anatema maggiore, è anche il dogma di Darwin che va abolito, perché l'evoluzione è continua ma viene indotta dall'ambiente e è realmente indiretta le cellule, i tessuti e perfino i gameti sono in grado di modificarsi sulla base di quello che l'ambiente dice, non è selection, questa storia delle mutazioni stocastiche, scusate ma questa parola io la dico proprio così, stocastica, non significa niente, cioè è una teoria che ci siano mutazioni stocastiche del DNA, arriva la selection e decide quali sono premiati, questo è uno schema del 1859 e noi lo insegniamo come fosse la verità che viene dal Vangelo, non avviene così, la selection agisce nei milioni di anni ma quello che realmente avviene è che il genoma continua a cambiare non per selection, c'è un libro meraviglioso, scrivete se volete Shapiro Evolution, è un libro meraviglioso la cui prima frase è variation not selection is the key in evolution, without variations the selection is nothing to act upon, è la variazione che conta, la variazione non è casuale ma è adattativa, senza le variazioni la selezione non avrebbe niente su cui operare, capite? Questo è il banale Watson, elementare Watson pure non viene, capito? Non si vuole capire, perché? Perché vi faccio vedere gli effetti deleteri di questo dogma, drammatici, perché si continua a dire vecchio schemino di Luria e Delbruck, pigliate i microbi, i microbi evolvono perché di fatto noi usiamo gli antibiotici e quelli per selezione naturale evolvono a forme diverse, ci vorrebbero millenni per fare le resistenze, invece la marchianamente, noi usiamo gli antibiotici, li usiamo male, li usiamo in zootecnia, li diffondiamo negli ecosistemi da tutte le parti, i geni hanno imparato, ma non adesso, ma da 4 miliardi di anni, a fare trasferimento genico laterale di informazione, si passano le sequenze l'uno con l'altro e queste sequenze vengono passate dalla generazione esposta a quelle non esposte che sono le generazioni successive, stanno dilagando le resistenze antibatteriche, che sono geni ancestrali che si passano in questo modo, non ha niente a che vedere con Darwin, era Lamar che aveva ragione, ma perfino il cancro è così, noi continuiamo a insegnare, non avremo il tempo oggi di vederlo perché sono le ultime slide e non avremo il tempo, mi soffermo su queste iniziali perché mi sembrano troppo importanti, noi continuiamo a insegnare e a credere e a predicare e soprattutto a utilizzare il modellino di Darwin per spiegare il cancro, secondo questo modellino il cancro è l'effetto di mutazioni stocastiche, ormai lo diciamo insieme questa parola perché veramente è pazzesca, casuali, ma in realtà si dice stocasti, che vengono selezionate perché vantaggiose per un clone cellulare, non è vero niente, è sempre più evidente se voi prendete delle cellule in laboratorio, le esponete a radiazioni ionizzanti, campi elettromagnetici e qualsiasi tipo di sostanza proattiva sull'epigenoma, non si dovrebbero più parlare di sostanze procancerogene perché sono tutte le molecole xenobiotiche, compreso molti farmaci, voi vedete che quelle cellule molto prima di fare mutazioni, molto prima fanno ipometilazione della sequenza, ora vedremo cosa significa, ipermetilazione dei geni ocosopressoi, una serie di variazioni reattivo-adattative, epigenetiche e le mutazioni vengono dopo giorni, mesi o anni, quindi le mutazioni non sono la causa del cambio, sono la conseguenza di instabilità epigenetica indotta da noi, che inseriamo nell'ambiente una marea di sostanze o di radiazioni che non c'erano, ancora una volta elementare Watson, dobbiamo buttare via tutti questi dogmi, dobbiamo cambiare la nostra visione, quello che sta succedendo, questa è una sintesi, è la vecchia genetica secondo cui nel DNA c'è scritto il programma per la costruzione del nostro fenotipo, non serve più, è sempre più chiaro che il genoma ha un software che è diverso in ogni cellula, questo software si forma lungo la vita, è la memoria di ogni cellula ed è la memoria di ogni esposizione, soprattutto avviene in modo reattivo a secondo delle informazioni che le diamo, soprattutto quelle che gli arrivano nella prima fase della vita, quando il software è estremamente plastico, quindi tutta epigenetica, non genetica lineare, questo significa fetal programming, gli organismi in via di sviluppo, soprattutto poi lo vedremo, il feto e l'embrione, ogni informazione che gli arriva gli cambia il software, nel senso che il software cambia direttamente in modo adattativo sulla base di quello che viene a ricevere, questo significa development of plasticity, plasticità dello sviluppo, questo significa che tutto quello che sono la gran parte delle patologie che stanno dilagando nel mondo non sono incidenti biologici, neanche il canto, sono il prodotto di tentativi di adattamento di milioni di cellule a informazioni sbagliate e se noi continuiamo a vomitare informazioni sbagliate nell'ambiente, se noi costringiamo i nostri figli e nipoti già in epoca embriofetale a ricevere benzene, benzantracene, benzopirene, pesticidi, idrocarburi poliaromatici, tutto quello che sapete non faranno altro che difendersi costruendo epigenomi reattivo-adattativi ed ecco perché divagano le patologie croniche, questo si chiama developmental origin of health and diseases, è una teoria che ormai c'è da 10 anni, non viene praticamente insegnata a nessuna università, neanche tantomeno la conoscono, lo dico, spero che ce ne sia qualcuno in sala perché abbiamo bisogno di questo, ginecologi, neonatologi e pediatri perché ovviamente tutto questo significa che in quel periodo della vita che sono i primi mille giorni si gioca tutta la vita della persona e delle successive generazioni, è una vita che cambia tutto, cioè la medicina deve essere insegnata così, non c'è cambiamento del nostro fenotipo che non sia indotto dall'ambiente, che non sia modulato dal software epigenetico, che non sia condizionato dal DNA, il DNA è semplicemente condizionante, predisponente al modo in cui reagiamo, non è quello che decide, sempre più chiaramente questo periodo che è l'ontogenesi imbriofetale, è il periodo in cui tutto il gioco si attiva ed è il periodo fondamentale per definire sarà uno sviluppo normale o sarà uno sviluppo reattivo, adattativo, pericoloso che mette in campo questo soggetto, ovviamente questo signore che continua a guardare qui non può vedere perché lui continua a cercare gli errori, lui continua a cercare polimorfismo in mutazioni e non capisce, letteralmente non capisce, parlategli, cioè parlate con il genetista molecolare classico, con l'oncologo classico, non ti ascolta neanche perché per lui sono errori e ti dicono noi abbiamo trovato la mutazione X, il polimorfismo X non significa niente, ti fanno vedere questo schemino, voi dite che cos'è questo qua, il cronosoma numero 1, ha 1700 geni, è vero? sì, ma i geni non sono quello di cui si sta parlando, ora vedremo che cosa sono, ma soprattutto se voi andate a vedere veramente che cos'è il cromosoma 1, il cromosoma 1 è per l'1,5% sequenze geniche codificanti le proteine, 1,5% non come sembra qua il cromosoma porta i geni, il cromosoma porta una marea di sequenze tra cui l'1,5% sono i geni e il 98,5% junk, impazzatura, cioè non lo capiscono e lo chiamano junk, in realtà il junk, cioè il 98,5% è la parte più importante del nostro genoma, è fatta da sequenze mobili, è fatta da RNA, da sequenze che permettono la produzione non di RNA messaggero, 1,5% di proteine, ma di RNA minori che sono dei veri e propri ingegneri del genoma, che sono continuamente in movimento e fanno delle operazioni fantastiche, le vogliamo vedere, questa è l'epigenetica, l'epigenetica non è per niente il cambio di espressione che non tocca la sequenza, è la continua modifica della sequenza, non nella parte codificante che non è quella più importante, ma nella parte non codificante che è il 98%, è una rivoluzione, è una trasformazione completa, non è più deterministica, quando questi continuano a farvi vedere quanti sono i geni che continuano a trovare, vi stanno raccontando dell'1% della sequenza e più studiano lì e più trovano geni associati alle patologie, loro speravano, in buona fede si spera, perché allora era buona fede, tutti ci abbiamo creduto, noi avremmo trovato i 4 geni driver del tumore X, i 3 geni driver dell'obesità, ne troviamo 1500 associati alla schizofrenia 1600, perché? Perché più ne cerchiamo e più ne troviamo, non significano nulla, perché non hanno la forza di determinare niente, ma insieme a centinaia lavorano in un complesso sistema, non serve a nulla questa roba, però trilioni di dollari non possono dirvi che non serve a nulla, allora vi dicono, facciamo i test genetici predittivi che non predicono, ve lo dico, scusate, so che c'è qualche collega che non la pensa come me, non predicono nulla, tranne qualcuno, forse il BRCA1 nel 2-3% dei tumori del seno, ma nel 97% non c'è la mutazione del BRCA1, per cui quella poveretta di Angelina Jolie è stata mastettomizzata in modo planetario per dare un bel segnale, capite? Sono pazzi, allora se tutto questo è vero, polimorfismi e mutazioni non sono il cuore del discorso, il genoma in realtà guardate qui, questo è un genoma di mammiferi, questo è un genoma di protozoi, la complessità non è legata alla dimensione della sequenza, questi sono i genomi del riso e dell'orzo, 40-50 mila sequenze cosiddette geniche, cioè codificanti, noi ne abbiamo 20 mila, neanche 25, ormai sappiamo che sono 20 mila, poco più del Kynoraditis elegans, che è un verme di 0,8 mila, e noi continuiamo a studiare, viene da ridere, ma non c'è da ridere, perché sono 20 anni che noi cerchiamo di far dire, ma vi rendete conto? E non ci riusciamo, perché quello che pubblicano noi lo leggiamo in mille, quello che pubblicano loro lo leggono 100 mila e poi soprattutto è la regola, per cui tutto Big Pharma costruisce farmaci intelligenti che sono demenziali, adesso vi farò vedere una unica slide in cui si vede quanto sono efficaci i farmaci costruiti con la vecchia teoria, ma è Nature che lo dice, non lo dice Topolino, allora a questo punto andiamo a vedere un po' meglio, 50 mila genici alla piantina d'orzo, noi ne abbiamo 20 mila, il Kynoraditis elegans dice a 9 mila, la drosofila melanogaster di Morgan da cui tutto è cominciato, ne ha 16 mila, oggi si dice 15 mila è qualcosa, il junk, eccolo qua, invece è enorme, la quantità di junk è enorme proprio nei primati e soprattutto nell'uomo, altro che junk spazzatura, la parte del genoma più importante negli organismi superiori è proprio quella che viene chiamata junk, che cosa fa? In buona parte è formata da retro sequenze mobili, vi lascio le diapositive, non c'è problema, in buona parte queste che cosa sono? sono il 48% del nostro genoma, sono retro sequenze che si muovono, sono retro virus, cioè noi siamo formati in buona parte nel nostro DNA da sequenze molto simili a quello che sono l'HIV per intenderci, sono entrati nel nostro genoma, ma non per caso, ma noi li abbiamo acquisiti e li utilizziamo per fare quello che Jim Shapiro dice, natural genetic engineering, ingegneria genetica naturale, il genoma è in grado di ingegnerizzarsi da solo, questo significa biologia sistemica o genomica sistemica. Allora, questo è il cannula di Selegans, quando c'era e parliamo di 400 milioni di anni fa, questo organismo minuscolo 0,8 micron si costruisce a partire da questa cellula, potete seguire tutto quello che avviene dopo perché tutto è scritto nel DNA. Negli organismi così semplici, un batterio ha il 98% di sequenze codificanti proteine, noi abbiamo il 98% di sequenze non codificanti proteine, abbiamo fatto un piccolo errore, abbiamo puntato sul gioco sbagliato, abbiamo continuato e adesso qualcuno comincia a chiedersi, ma non adesso, già nel 2007, che cos'è un gene a questo punto? E risponde dicendo, gli stessi giornali ormai da anni, non esiste il gene, il gene è dislocato, il gene spesso ha dentro di sé altri geni, il gene codifica per una proteina, no, per 100, 1000, 2000 o meglio, potenzialmente per 1000 proteine, perché poi in realtà fa per esempio splicing alternativo, tutti questi esoni possono essere assemblati in modo diverso, non lo dice però il gene, glielo dicono, assembla questi pezzi, quindi sono moduli, il gene è fatto da moduli, viene utilizzato a secondo di quello che si decide fuori, poi fa lo shuffling, poi fa l'editing, ma guardate che bello questo, perché è stata utilizzata la teoria dell'informazione, cioè la cibernetica in pratica, nel 1944-45, hanno capito che era importante e se voi andate a vedere trascrizione, traduzione, editing, perfino i copiatori e i correttori di bozze, è tutto in termini di informatica 1940, continuiamo a parlare, è utile, a mio parere sì, però non pensando all'errore, alla copiatura, eccetera, come lo insegniamo, ma nel senso che l'informazione viene dall'esterno e viene in forma pazzesca, cioè complessissima e sono essenzialmente vibrazioni, e sono essenzialmente campi, lo trovate questo, lo trovate in uno su un milione di articoli, cioè qualche articolo che studia il modo in cui i campi elettromagnetici interagiscono sulla cromatina, ne ho trovati due o tre in tutta la letteratura mondiale, capite? E ne escono migliaia che dicono invece sta storia, allora che cosa avviene in realtà? L'informazione che è in milioni di anni dentro il genoma viene continuamente attivata dall'esterno, dalle informazioni che gli diamo, in realtà noi siamo formati da trilioni di questi piccoli esseri che sono le cellule e ogni cellula è un piccolo cosmo che è capace a suo modo e normalmente lavora con tutte le altre, quando si ammalano lavora più con tutte le altre e si va verso patologie di tipo neoplastico perché perdono la capacità di comunicare, ma quello diventa patologia, ma normalmente ogni cellula lavora con tutte le altre, tutte le informazioni dicono per esempio, guardate un po' veramente in diretta, questo è il microscopio elettronico, due metri di DNA iperavvolto formano i cromosomi, ma la cosa pazzesca è che ogni millisecondo esattamente nel punto che serve non alla cellula ma al tessuto o all'organismo, questo due metri di DNA si apre e produce qualcosa, in risposta a qualcosa che è un segnale che noi non riusciamo a capire, che spesso è essenzialmente elettromagnetico, cosa fa questi due metri di genoma? Producono ogni millisecondo migliaia di RNA minori e alcune centinaia di RNA messaggeri, proteine, RNA minori, ingegneria genetica naturale, ogni millisecondo, sulla base di che cosa? Delle informazioni che gli diamo. L'epigenoma è questo, l'epigenoma è metri di DNA iperavvolto, in realtà è un'antenna, una doppia antenna che vibra e che crea un campo elettromagnetico a sua volta, perché tutto quello che è materia in realtà è anche energia e quindi qui dentro ci sono atomi, questo ce lo siamo dimenticati, ogni atomo lo sapete meglio di me, sono protoni e neutroni che vanno a migliaia di chilometri al secondo, sono elettroni che ruote, è che è talmente complesso che bisognava semplificare, però semplificando, semplificando, semplificando si raccontano bugie. In realtà quello che avviene è che questo sistema incredibilmente complesso, in cui ci sono queste due spirali, che sono delle antenne, che vibrano continuamente, vengono continuamente raggiunti da informazioni complesse, filtrate attraverso altre proteine, di una complessità ancora maggiore, perché se voi ci pensate la proteina è il prodotto non della trascrizione, ma della trascrizione, della traduzione, dell'editing, dello shuffling, ha una forma tridimensionale complessa, vibra a sua volta, non si può capire, si può intuire, ma è pazzesco ridurlo come è stato ridotto. Allora queste istone acetilasi, queste istone metiltransferasi, tutte le varie acetilasi, cosa fanno? Vanno a marcare l'epigenoma sulla base di quello che noi gli diciamo, non sulla base di quello che dice il DNA. E tutto questo sistema, finalmente lo possiamo vedere, poco fa Enzo parlava degli istoni, ma gli istoni sono in realtà degli ottameri conservati da miliardi di anni, perché nello scarafaggio e nell'uomo sono uguali, ma hanno delle cosiddette cose, gli anglosassoni hanno una fantasia quando descrivono le cose, gli istontails, e questo ce lo possiamo immaginare così, due metri di DNA, iperavvolto attorno agli istoni, gli istoni hanno queste protursioni laterali che sono la parte viva, nel senso sono i sensori del genoma. Cosa succede? Succede che ogni informazione arriva qua, viene processata da questo sistema, vedete che c'è una marea di amminoacidi K, questa è l'alisina, è un amminoacido basico, viene continuamente acetilato o metilato, nelle posizioni chiave, per esempio sull'istone terzo l'alisina in posizione 9 e 27, normalmente dovrebbe essere acetilata, beh, ma c'è anziché arrivare a ossigeno, a dividire carbonica, azoto, come da milioni di anni, perché siamo dei primati, siamo tutti d'accordo, per fortuna in questo darvi mi aveva ragione, arrivano benzene, benzantracene, eccetera, non viene acetilata quella posizione, viene metilata, si spegne il gene, non si spegne subito, cerca di reagire, ma dopo un po' mia fa, quindi comincia a metilare la sequenza promoter, non a caso, non sono stocastiche queste modifiche, sono assolutamente intelligenti, cominciano ad essere bloccati i geni oncosoppressori, noi li chiamiamo ancora geni oncosoppressori, in realtà sono i geni che controllano il ciclo cellulare, la proliferazione delle cellule, la morte cellulare programmata, non funzionano più dopo un po' se li esponete, questo viene, è stocastico tutto questo, cioè veramente è ridicolo, cioè tutto questo è, milioni di anni di adattamento hanno prodotto un sistema perfetto che cerca continuamente di adattarsi e trasformarsi, noi lo inganniamo con molecole mimetiche che chiamiamo interferenti endocrini, che non sono per niente interferenti endocrini, ma che sono vere e proprie molecole segnale che vanno a disturbare fin dalla differenziazione delle cellule perché ingannano letteralmente perché hanno la stessa funzione del morfogeno, cioè della molecola segnale normale. Le abbiamo riempite, sono una marea, in realtà quello che andiamo a vedere è che se vediamo sul piano evolutivo quello che realmente è aumentato via via è il junk e gli RNA minori, che sono la parte viva del sistema. Tutto questo, soprattutto nella parte più plastica della nostra vita, che è appunto l'ontogenesi di embrio fetale, se lo vogliamo sistematizzare in un'unica figura, ce lo possiamo immaginare così, il DNA nello zigote è il prodotto del DNA paterno e materno che si mescolano e riarrangiano, tutte le cellule del nostro organismo sono figlie di queste, hanno sempre lo stesso DNA? Tutte hanno lo stesso DNA, sono tutte diverse l'una dall'altra, abbiamo 250 tipi cellulari, abbiamo i neuroni, abbiamo gli epatociti di cui parlava Enzo poco fa, abbiamo i linfociti, hanno tutti lo stesso DNA per definizione, ma tutte quante hanno un epigenoma diverso. Ma questo ha un senso, è fisiologico tutto questo, se noi andiamo a vedere che cosa sono un linfocita e un neurone, sono due animali totalmente diversi, sono due cellule che sono partite dallo stesso zigote, che cosa è avvenuto? Che il neuroblasto e il linfoblasto hanno fatto due percorsi diversi, semplicemente. In un sistema che si stava programmando hanno ricevuto una serie di informazioni. Il linfoblasto è andato nel midollo, è andato nel timo, ha ricevuto tutte le informazioni legate agli antigeni cosiddetti self e a quelli non self. Si è costruito un suo epigenoma specifico, in pratica come? Metilando i geni che noi gli servono, quindi è fisiologia l'epigenetica, non è errori. La fisiologia ha fatto sì che in quel linfoblasto che si sta andando a modificare e diventa tutte le fasi maturative verso la plasmacellula, la gran parte del genoma viene metilato e vengono attivate una serie di parti del cromosomi 2, 14 e 22 che servono a fare l'immunoglobulina e quelle sequenze che servono ad attivare. Basta, non serve altro, è una cellula specializzata, differenziata, è tutta epigenetica, il DNA rimane più o meno lo stesso, vero e non vero, in realtà cambia pure il DNA nella sua sequenza, perché il linfocita fa due meccanismi meravigliosi tutti epigenetici che si chiamano VDJ Recombination e Somatic Hypermutation. Ora vi dite sì ma stai esagerando perché alla fine... No, è interessante anche questo perché la teoria di fase che ancora viene portata avanti e scritta su tutti i libri è che in realtà gli anticorpi si formano per Clonal Selection che è l'equivalente della Natural Selection, cioè noi facciamo anticorpi, ne facciamo milioni, arriva l'antigene e sceglie quello che... Non è vero, probabilmente, perché ancora non è possibile dimostrarlo, ma se è vero tutto quello che stiamo dicendo, l'antigene è in grado di indurre nella cellula che noi chiamiamo linfocita una serie di modifiche reattivo-adattative per cui lui si fa un anticorpo che è specifico per quell'antigene, lo fa con dei meccanismi pazzeschi di ricombinazione interna, di ingegneria genetica naturale che si chiamano VDJ Recombination e Somatic Hypermutation. Non c'è scritto nel DNA, è l'antigene che induce quel sistema e il linfocita è questo, il linfoblasto diventa linfocita, B o T a secondo di dove passa, riceve informazioni diverse e diventerà poi plasma cellule, fa anticorpio, ovvero linfocita T e fa recettori specifici, diventa helper, citotossico e via. Allora, tutta questa differenzazione non è nel DNA, perché il DNA era uguale all'inizio, è nel software specifico che si viene a formare sulla base delle informazioni che riceve il neurone. Il neuroblasto è come il linfoblasto, sono due cellule multipotenti, sono praticamente identiche, ma il neuroblasto parte dalla parte profonda della regione ventricolare e migra, va a finire nella corteccia e attraverso la madre, perché parliamo dell'embione, riceve una serie di informazioni che sono il modo in cui la mamma sta vivendo, quello che la mamma mangia, quello che la mamma beve, lo stress materno, tutto questo interferisce, sì, enormemente, il neuroblasto finisce sulla corteccia e comincia a elaborare una serie di risposte, ogni informazione che arriva, spina dendritica, dendrite, collegamento, rete neuronale, quello che ci fa diversi, cioè quello che ci fa diversi non è il DNA, capite? Sono le informazioni che arrivano all'embrione, al feto e si tramutano in cellule differenziate, in particolare in reti neuronali, noi siamo connettomeno, siamo fino a prova contrae al genoma, quel signore continua a guardare lì e cerca l'errore, è un povero, mente cara, scusate, ma io lo dico proprio in maniera chiara, non è possibile dopo vent'anni di etigenetico, di connettomica continuare a pensare che l'errore del DNA condiziona tutta la nostra vita e fa venire le malattie, soprattutto non cambiano le mutazioni, le mutazioni sono sempre state, sono cambiate progressivamente le capacità di reagire a un ambiente che cambia giorno per giorno, quindi è il tentativo di difendersi, ed è tutta epigenetica, non è genetica, se voi andate a vedere perfino le api, queste due hanno un DNA identico, ma sono totalmente diverse, non solo sul piano anatomico, ma anche sul piano comportamentale, la regina e l'operaia, le operaie sono le bottinatrici, le infermiere, sono divise, lo sapete che l'ape ha un grammo di cervello e fa delle cose pazzesche, si dividono compiti tra di loro, sono in grado di fare danze frattali, attraverso danze frattali si comunicano la distanza dall'alveare delle fonti di nettare che può essere trasformato in un grammo di cervello, questo è un mistero, certo non è il DNA, però la cosa interessante è che se andiamo a vedere le marcature del software, qui le possiamo studiare nel cervello del bambino, ovviamente no, ma nel cervello dell'ape si vede, perché quello che è successo è che semplicemente questa è stata creata in questa forma totalmente diversa dalle persone, scusate, dagli altri individui, soprattutto dalle operaie, ce ne sono alcune che si dedicano soprattutto alle larve e gli danno la pappa reale per 5 giorni e la pappa reale è un potente induttore di gruppi metilici e i gruppi metilici spengono quello che non serve e costruiscono letteralmente questa creatura particolare che è la peregina, una per alveare, al massimo due perché ne fanno anche una di riserva, ma no, sono le gente, è vero, la cosa pazzesca è che se la peregina per caso si rifiutasse di fare la sua vita, perché è una vita da sfigare, perché la peregina non fa altro che stare lì a covaverare, fa un unico volo nuziale, le altre se ne vanno in giro, fanno una bella vita, vanno a cercare, capite? Cioè in realtà hanno fatto la rivoluzione da dentro, la peregina è prigioniera dell'alveare, non può fare nulla perché è metilata, quindi qualora si ribellasse la fanno fuori e prendono quella prigioniera, capite come funziona? Ed è tutto epigenerico, allora capite la potenza di quello di cui stiamo parlando? Se noi andiamo a vedere dopo 40 anni il DNA è uguale in due soggetti, le due gemelline che vedete qua non cambiano il DNA, ma fanno patologie diverse a secondo della vita che hanno fatto, delle metilazioni diverse, delle informazioni che hanno avuto, è tutto epigenoso ed è tutto con Nettono, aveva ragione quest'uomo, aveva capito tutto, questo era Waddington, Waddington aveva capito che ogni cellula, cioè il suo percorso complesso, si marca una serie di parti che lui non sapeva, 1939-1940 non c'era ancora il deleterio dogma di Crick, quindi lui aveva capito, poi è stato dimenticato perché è arrivato il dogma di Crick, è diventato quello che è diventato e Waddington è stato lungamente dimenticato, ma lui aveva capito che ogni cellula a partire da questa che è praticamente identica in tutti i tessuti, a secondo di dove si trova assume una serie di informazioni diverse e si trasforma perché ha una memoria, ogni cellula ha una memoria, epigenetica non genetica, la genetica è quella di base tipica della specie, allora su questa base noi ce la dobbiamo vedere così il giochino, cioè dentro di noi ci sono trilioni di cellule, ognuna diversa, ognuno col suo software, il suo software in realtà sono questi 48% di genoma formato da sequenze mobili che si chiamano retrotrasposoni, che si muovono a secondo delle informazioni che arrivano e tutta la parte del DNA non codificante che formano RNA minori, ma questo vale sia nelle cellule somatiche sia nei gameti, per questo vi ha l'inizio, barriera di Paesman, tutta la via non esiste, perché i gameti continuano a fare ingegneria genetica come tutte le altre cellule, quindi questo è un genio, Jim Shapiro di cui vi dicevo il libro Evolution, questo è un genio perché lui ha capito già negli anni 90, in realtà lui come molti geni era l'ultimo allievo di un genio che era la Barbara McClintock, ve la ricordate quella che aveva capito che il mais cambiava non perché cambiava il DNA ma perché cambiava qualcosa, per 20 anni anche perché era donna, l'hanno accusata di essere pazza, dopo lì che gli hanno dato il Nobel, ma soltanto perché è diventato evidente che c'erano i retrotrasposoni dopo 20 anni lì, ecco Jim Shapiro ha capito ed ecco ormai si parla di mobiloma, non sono delle parole ma genoma, trascriptoma, proteoma, mobiloma significa c'è una gran parte del nostro genoma che si muove continuamente e si muove non a caso, ma si muove in maniera intelligente, tra virgolette, per cambiare, se voi andate a vedere quali sono, questa è per me la dimostrazione più meravigliosa di quello che stiamo dicendo, quali sono le due popolazioni cellulari, scusate cellulari che cambiano continuamente il loro genoma, non solo il loro epigenoma, sono i linfociti e i neuroni, come mai? che sono le cellule di memoria, i linfociti si devono ricordare di tutto quello che incontrano per poterci difendere, i neuroni si devono ricordare di tutto quello che viviamo per poterci trasformare nel tempo, allora queste due popolazioni cellulari, DNA ovviamente di base uguale, fanno due meccanismi, i linfociti si chiama, ve l'ho detto prima, VDG Recombination e poi Somatica Hyper Mutation, nei neuroni avviene qualcosa di pazzesco, le sequenze mobili si muovono continuamente, molto più che nelle altre cellule e fanno letteralmente mutazioni, ogni neurone ormai lo sappiamo, l'ho messo qui, ecco qua, Mechanic for Somatic Brain Mosaicism, ogni cervello è un mosaico, è una chimera se vogliamo, costituita da 30 miliardi di neuroni ognuno dei quali ha un genoma diverso, quindi chissà quanti tumori, no, no, il cancro sta aumentando, sta aumentando anche nel cervello, ma sono gliomi, glioblastomi, diciamo anche astrocitomi e meningiomi aumentano un po' meno, non vengono dai neuroni, il neurone ha 1500-2000 mutazioni, non fa cancro, ancora una volta dimostrazioni che le mutazioni possono essere utili, anzi, sono tendenzialmente utili, questo articolo meraviglioso, 2015 su Science, Somatic Mutation in Single Human Neurons Tracks Developmental and Transcriptional History, cosa significa? Significa che i neuroni, questi 30 miliardi di neuroni che sono nella corteccia fanno mutazioni adattative, fanno mutazioni importantissime, noi non sappiamo ancora perché, a mio parere hanno molto a che vedere col fatto che il DNA è anche antenna, quindi non abbiamo due antennine uguali, sono 30 miliardi di antenne che sono in sincronia tra di loro, in maniera incredibilmente complessa si crea la coscienza, lo possiamo solo dire, perché capite che lì sarebbe altro che Nobel, ma voglio dire, non ha importanza, la cosa più interessante è che le mutazioni si formano soprattutto sull'area frontale e prefrontale, ancora qui, elementare Watson, non si forma nella parte antica del cervello, si forma nella parte più nuova, si accumula mutazioni che non sono ovviamente stocastiche, permettono una sincronizzazione continua della corteccia proprio nelle aree prefrontale e frontale che sono quelle che controllano tutte le altre, questo non è una cosa comprensibile, a meno che non si comincia a pensare, ed è per questo che poco fa dicevo, quello che abbiamo trovato è che le cellule staminali, le cellule embrionali, le cellule neuronali e in parte i linfociti continuano a fare double chain break, che sono rotture delle due spirali, non perché per caso arriva la radiazione ionizzante e crea il danno, ma perché questo è stato uno strumento fondamentale di evoluzione, il genoma per mutare deve aprire la propria struttura e permettere a una serie di enzimi di andare a elaborare soluzioni alternative, molecolari, quindi la rottura non è un danno, non ha senso pensare, il fisico, certo non tutti, ma il fisico negli anni 20 pensava in termini meccanicistici, arriva la radiazione ionizzante e è sufficientemente potente da dare il danno perché salta l'elettrone e allora di fatto muta, stupidaggini, la radiazione non è più o meno potente, è più o meno di frequenza tale da poter interagire con la struttura intelligente che la capta, la riceve e si trasforma, perché questa è biologia sistemica, biologia sistemica significa che il sistema ha imparato in 4 miliardi di anni a reagire con modifiche adattative e questo lo fa a livello molecolare o addirittura atomico, quindi noi siamo assolutamente nell'era ancestrale in cui spieghiamo le cose in modo meccanicistico, determinista, riduzione, capite? Allora questo significa che il sistema non è un caso che si trovino sempre di più copy number variance all'interno dei neuroni, copy number variance significa che non sono mutazioni puntiformi, non sono danni, sono piccole copie soprannumerarie, piccole duplicazioni, piccole delezioni della sequenza che colpiscono non a caso il gene ma spesso interessano alcuni geni specifici, per esempio questa è una meraviglia a mio parere, si chiama DUP1220, è pieno di copy number variance, è il gene che controlla le dimensioni del cervello già in tutti i primati ed è quello che sta accumulando più copy number variance nell'autismo e nella schizofrenia. Cosa c'ha di stocastico questo? Cioè stocastico nella dimensione in cui poi si verifica il singolo cambiamento, nel modo in cui noi lo valutiamo, ma in realtà ha un andamento assolutamente adattativo tutto questo, allora cosa significa? C'è un gradiente tra la genetica e l'epigenetica, se negli animali poco complessi è tutta genetica perché il DNA è prevalente, il 98% del DNA codifica proteine nel battere e sempre meno, ma ancora la gran parte del DNA nelle forme di vita più semplice è codificante proteine, negli animali via via più complessi diventa sempre più potente il software, cioè non il DNA in quanto tale, ma l'epigenoma. Lo stesso gradiente lo troviamo nell'ontogenesi, cioè di fatto l'epigenetica diventa via via più importante se noi andiamo a vedere nella prima fase della vita, qui è tutta genetica, nel senso che è già scritto quello che è la prima cellula, poi diventa 2, 4, 8, 16, 32, modula, poi blastula, eccetera, questo è ancora geneticamente controllato, ma più evolvono i tessuti e più evolvono gli organi come ho visto soprattutto quei due tessuti che fanno da controllo generale, diciamo psico-neuro-immuno-endocrino per intenderci, lì è tutta bigenetica e le modifiche sono nel software, non è il DNA che comanda. Lo stesso gradiente lo troviamo da un tessuto all'altro, i tessuti più complessi, e l'abbiamo visto soprattutto questo, fa un'enorme quantità di modifiche epigenetiche indiretta, in questo momento che vi sto parlando, cioè mentre io vi parlo ogni neurone comincia a metilare, a ipometilare, a collegare ipoteticamente delle aree e poi stanotte scegliete voi, o meglio il vostro inconscio, ma cos'ha a che vedere con il DNA? Questo è connettono, questo è software. Allora noi siamo essenzialmente software, noi abbiamo due grandi programmi, continuiamo a studiare quello che è ancestralmente quasi uguale in tutti noi, si chiama DNA, conta pochissimo nelle variazioni del nostro fenotipo, perché è quasi uguale in tutti noi, ma invece abbiamo un software che si forma in nove mesi dell'ontogenesi embiofetale e l'epigenoma è totalmente diverso in tutti noi, si traduce in varianti fenotipiche, soprattutto nei linfociti e nei neuroni che sono le due popolazioni cellulari più dinamiche, determina veramente i cambiamenti del nostro fenotipo, sia fisiologici che patologici. Questo è evidente, ci sono dei clamorosi problemi che sono legati alla potenza ancora del DNA, per cui questi cinque primati si vede benissimo che hanno lo stesso DNA e questo lo vedeva il St. John Institute, cioè questa video la faccio vedere ogni volta per far capire che comunque il DNA ha una sua forza, perché questi due hanno il 98,7% di DNA, quando è stato eletto questo qui, il St. John Institute ha detto abbiamo perso 5 milioni di anni e quando è stato eletto questo avrebbe dovuto scrivere abbiamo perso 8 milioni di anni, perché quantomeno c'è una continuità e si vede, ma al di là delle battute del St. John Institute è sempre più chiaro che il software è molto più importante, ecco perché se mettete su PubMed la parola epigenetics trovate questo aumento, se mettete la parola cancer and epigenetics, cancer and epigenetics, trovate questo aumento, se voi andate a vedere autism and epigenetics trovate questo aumento, se voi mettete la parola microbiome, fino a 10-15 anni fa si parlava di flora intestinale che non significava niente, si diceva se non ci fossero i microbi del nostro intestino non potremmo per esempio assorbire alcune vitamine, si va bene, ok, ma in realtà l'ecosistema microbico del nostro intestino è fondamentale perché dirige, modula l'intero sviluppo del sistema pico-neuro-immuno-endocrino, l'ecosistema alterato, diciamo il microbioma alterato c'è in ogni patologia in forma diversa, obesità, diabetes secondo, autismo, schizofrenia, cancro, è la causa? No, è una concausa, è un cofattore come tutti quelli di cui stiamo parlando, ma è tutto software, comunque è un potente modulatore epigenetico ed ecco perché se mettete la parola endocrine disruptors vedete in letteratura lo stesso aumento, perché non sono distruttori o interferenti endocrino, sono molecole mimetiche che ingannano tutto quello di cui stiamo parlando, soprattutto nella prima fase della vita, perché quando si sta formando l'embrione e poi il feto sono morfogeni quelli che determinano i cambiamenti della struttura, la differenziazione, il modo in cui comunicano le cellule, se arriva una molecola mimetica che è uno pseudormono, un plastificante come il bisfenolo hacker e tutti i liberon del mondo fino a poco tempo fa o se arriva un pesticida, ingannano l'intero processo nella prima fase della vita. La placenta è un organo fondamentale, l'abbiamo sempre buttato via, stiamo finalmente cominciando a studiarlo perché abbiamo un primo finanziamento in Italia, lo dico e lo sottolineo perché è il ministero che ce l'ha concesso, quindi è importante dirlo, devo dire che il direttore del Dipartimento di Prevenzione, che era una gran persona, è stato promosso subito dopo, non dirige più il Dipartimento di Prevenzione, il tavolo dei mille giorni si è fermato, ma questi sono gli incidenti di percorso tipici di questo paese, ma noi studieremo comunque grazie a lui la placenta, per esempio la placenta che è il centro delle patologie cromiche, la cabina di regia, la scatola nera qualcuno ha detto, perché? Perché in realtà la placenta in buona parte lo forma il feto, se la forma l'embrione, addirittura le prime cellule, degli annessi, vi ricordate? Perché? Perché deve andare a prendere dalla madre l'ossigeno, nutrizione e informazioni su quello che sarà il mondo dopo e deve utilizzare queste informazioni per crearsi un epigenoma adattativo e predittivo, la parola fantastica è predittivo, significa che l'embrione del feto riesce a prevedere in qualche misura quello che sarà il domani, ma cosa succede? Che tutta questa predizione non serve se gli cambiamo l'ambiente a ritmo così rapido, per cui lui si programma in un certo modo e poi arriva una nuova schifezza, a ritmo pazzesco, per esempio il 5G? Ecco perché io poco fa dicevo, vediamolo così, sul piano biologico è una follia inserire continuamente agenti epigenotossici, ma è anche una follia ad inserire campi elettromagnetici nuovi, di alta frequenza, a 300 metri di distanza da qualsiasi feto che sta nascendo nel mondo, qualcuno direbbe lo fanno apposta, io non ci credo, per me lo fanno per ignoranza, però qualcuno che dice lo fanno apposta, beh insomma, le sue ragioni c'erano, quindi esiste un carico chimico globale, esistono centinaia di molecole che non dovrebbero essere nella placenta, nel cordone ombedicale, esiste tutta una serie di comportamenti, ma questo lo sappiamo, adesso però non vi voglio far andare a cibarvi con questo tipo di informazioni, ecco le due e tre che vi do ancora, questo sì, questo è lo studio che abbiamo pubblicato nel 2018 sui campi elettromagnetici che facevo riferimento, questo gruppo, se voi andate a vedere Cindy Sage è la coordinatrice dell'unico, a mio parere, poi si può pensare come si vuole, sito al mondo, si chiama Bio Initiative Research, che ha i dati più aggiornati su quello che sono i campi elettromagnetici, abbiamo messo su questo piccolo gruppo di ricerca, lo abbiamo portato all'OMS, abbiamo detto quali sono i limiti dell'ICNIRP, ma lo sanno benissimo anche all'OMS, abbiamo proposto una serie di studi, questi sono veramente, secondo me, quelli che fanno la differenza, guardate un po', le cellule embrionarie sono le più sensibili ai campi elettromagnetici e le cellule staminali altrettanto, perché? Perché sono epigeneticamente plastiche, per cui più cambiano le frequenze, più vengono esposti ai campi elettromagnetici le cellule staminali che devono riparare i nostri tessuti e le cellule embrionari che devono programmarsi, capite che quindi le pandemie che stanno aumentando, obesità giovanile, non è un accumulo di grassi nel tessuto micoso, è certamente una patologia infiammatoria, ma comincia da una programmazione in utero, sta dilagando, non 5-10% sono passati in 30 anni al 12%, no, sono passati in 30 anni al 36% di Stato Unito, obesità significa un'endocrinopatia sistemica in cui sono sprogrammati l'ipotalamo, l'ipofisi, il surreno, il tessuto liposo, il tessuto muscolare, tutto sprogrammato, fanno insulino resistenza 3 anni, ci sono persone che nascono, che a 9 mesi pesano 28 kg nei Stati Uniti, ci sono persone che sono morte di 540 kg, cioè io ho le foto se volete ve le faccio vedere, tutto questo non è mai esistito, 540 kg poveracci, allora che cosa sta succedendo? Il diabete secondo era una patologia dell'anziano, sta diventando una patologia degli adolescenti negli Stati Uniti, vogliamo fare la stessa fine, cioè Trump, la stessa fine, io non so se sono migliori quelli che abbiamo attualmente noi, ma voglio dire, Trump è quello che è, obesità, diabete secondo, questo è il ritmo di crescita, se noi, non vi posso far vedere, ma i dati reali, epidemiologici, secondo il CDC di Atlanta, parlano di un aumento di autismo, da un bambino su 2000, a un bambino su 59 dal 1980 al 2018, da 1 su 2000 a 1 su 59, ci sarà la nostra capacità diagnostica maggiore, la maggior sensibilità, tutto quello che volete, ma quando si passa da 1 su 2000 a 1 su 50, capite che è un problema, malattie neurodegenerative, l'Alzheimer, cosa ci hanno raccontato per anni? Ebbè è legata all'aumento dell'età media, non è vero, l'Alzheimer negli anni 50, nelle autopsie non esiste, è rarissima, perché l'Alzheimer l'aveva descritta, ma come un caso raro su un, oggi c'è 1 milione e mezzo di Alzheimer nella sola Gran Bretagna, 6 milioni e mezzo nei soli Stati Uniti e in Italia 1 milione e 300 mila, quindi voglio dire, stiamo parlando di quanti sono gli anziani, 5 milioni, 1 milione e 300 mila fa l'Alzheimer, cioè che cos'è la genetica, il DNA? No, è assolutamente, il particolato ultrafine, metalli pesanti che entrano per anni, vanno nel lobo frontale, nell'ipocampo, determinano il clivaggio alterato della proteina PP, il transfolding della beta amiloide che precipita nei lobi frontale e ipocampo, che sono quelli più esposi. Ancora una volta, elementare Watson, si vuole capire, lo sappiamo, tutto così, non c'è niente di casuale tutto questo, quando noi vedevamo un bambino così, 30 anni fa in pediatria, io ero al Mayer, non l'ho mai visto, a parte 5 anni io non ho visto un bambino obeso, oggi un bambino su 10 sono obesi, noi pensavamo, dal libro Fanconi e Valgren, che era il libro di mediatria di allora, questo si chiama sindrome di Prader-Wilm, per noi l'obesità era una sindrome, così abbiamo studiato, adesso un bambino su 10 in Italia, e molto di più anche negli Stati Uniti, quindi stanno aumentando tutte queste patologie, adesso tutta questa parte, scusate, non ho il tempo di farvela, facciamo un'altra volta, vi faccio vedere un'unica diapositiva, del resto questo ce ne siamo un pochino già dette queste cose, vi faccio vedere un'unica, spero di averla perché cerco tutto questo, per non farvela vedere sarebbe drammatico, vi faccio vedere quest'ultima diapositiva, e infatti non ce l'ho, ve la faccio vedere però, perché ce l'ho su un'altra serie, perché questa per concludere in maniera, come dire, testimoniale quasi, su Nature è venuto fuori un articolo, mi pare 2015, che dimostra l'efficacia dei farmaci più venduti al mondo, i 10 farmaci più venduti al mondo, sono efficaci nell'8-10% dei casi, cioè la potenza di questo sistema è di costringerci in qualche modo a usare farmaci che nel 90% dei casi non funzionano, e lo dice Nature, allora perché non funzionano? Non funzionano perché sono basati su una vecchia biologia, sulla vecchia teoria del recettore che riceve la molecola, non funziona così, sempre più chiaramente dobbiamo associare quantomeno e poi via via sostituire, è una medicina del XXI secolo che è basata su una biologia sistemica, vera, su una biologia molecolare di tipo, come abbiamo visto, molto più complessa, ma su cui dobbiamo lavorare, in cui le informazioni sono importanti, dal primo giorno in poi dobbiamo fare prevenzione primaria, riduzione della posizione materno-fetale, eccetera. Lo faremo? Ma io lo spero, siamo qui per questo. Ora, scusate, questa lunga cavalcata, vi faccio vedere questa diapositiva, nel frattempo la trovo e ve la faccio vedere. Bene, grazie. Ecco, posso anche dirlo che un nostro amico che tutti voi conoscete, che si chiama Silvio Garattini, un professore, un farmacologo di fama internazionale, dice esattamente quello che ha detto il professor Buccio, ovvero la gran parte, la gran parte dei farmaci non fa assolutamente nulla. Ecco, parlate pure, che io cerco la slide perché la... Allora, appena ho fatto vedere, dopo che ho fatto vedere la depositiva, noi poi siete invitati a pranzo da Armica, quindi andiamo giù, secondo piano. No, no, è un errore, siamo qua davanti. Ah, allora, ancora meglio. Meglio, allora andiamo giù. Possiamo recuperare nei tempi... Ok, quindi così recuperiamo il tempo nel pomeriggio, se siete d'accordo in 40-45 minuti mangiate. E così poi magari ci vediamo anche prima per lasciare le vostre mani. Così poi finiamo prima possibile. Adesso vediamo questa diapositiva, intanto siamo qua di fronte, questo è meraviglioso. No, no, no. Eccola qui. E temevo di non avere. Ve la devo far vedere perché... Ecco, è importante, scusate, è importante perché come vedete è Nature che lo dice. Quelli in rosso non sono i farmaci, sono i dieci farmaci più utilizzati al mondo. Quelli in rosso sono quando non servono, quando non funzionano. Significa che danno essenzialmente effetti collaterali. E lo dice Nature. Ora tutto questo, se lo sapessero tutti, se lo sapessero anche i nostri colleghi, forse un po' di problemi, una medicina troppo controllata, da una ricerca troppo controllata. Lancet, Horton, direttore di Lancet, dice l'80% dei nostri articoli sono ovviamente finanziati dalla grande industria e il 50% sono junk. Lo dice Horton. Scusi, parla di integratori o di medicina? Questi sono i dieci farmaci più venduti del mondo. No, no, io adesso sto facendo un discorso soltanto per dire quello che è una farmacologia ancora basata sul vecchio modello riduzionista e determinista non funziona, questi sono farmaci, sono i dieci più venduti del mondo. Questa è la loro efficacia. Quindi è sempre più chiaro che dobbiamo trovare qualcosa di più che complementare, direi quasi sostitutivo. Grazie, buon appetito.